Il direttore dell'hotel porge il suo cordiale benvenuto e vuole offrirle qualcosa. Che cosa preferisce? Vodka tonic, gin tonic, rum e coca, blodimeri, whisky, zazì, limonata, birra o coca? Cos'è lo zazì? È una parola maia, vuol dire scotch e ghiaccio. Va bene, prenderò una vodka tonic. Bene. Vodka tonic. Grazie. Dividilo con gli altri e non berli tutti tu, altrimenti poi non ti leggi più in piedi. Lei è il direttore dell'hotel? Sono solamente un cliente, ma che voleva conoscerla. Stasera avrò una cena speciale. Alla gosta pescata oggi e champagne francese. Le piacerebbe venire? E chi c'è a questa cena? Solo lei, naturalmente. Che ha cammino bene? ztrimoni e golfingai. E chi c'è. Medellì voga. Grazie a tutti.